Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo episodio dell'Ultimate Degades Io sono Alessandra CitySim e se ancora non mi conoscete Fermatevi! Fermatevi qui! Non andate avanti nel video, lo scherzo, no sì davvero E alprite il link che trovate nell'info box Ragazzi andate a vedere tutti i miei riferimenti per seguirmi sui vari social Ma soprattutto andate a vedere gli episodi precedenti Perché sto per fare dei major spoiler quindi non andate avanti Allora dicevo che benvenuti a tutti Oggi devo necessariamente prima di cominciare di entrare a bomba in questo nuovo anno Andare a rendere omaggio alla nostra Matilde che nello scorso episodio si ci ha abbandonati ragazzi E così come abbiamo fatto con Tancredi andremo a vedere la sua storia all'interno del sito Ancestry In cui troviamo tutto il nostro albero genealogico Vi faccio vedere che ovviamente è aggiornato anche alle ultime novità Questo è il motivo per cui appunto vi ho bloccati all'inizio Perché la piccola Asia Kazama, figlia di Kemon e Clelia Purtroppo nello scorso video ci ha abbandonati E ragazzi abbiamo rischiato di lasciarci le penne anche con Clelia Per fortuna è ancora qui con noi Guardate qui ragazzi vicino a Clelia c'è Dalia Sua sorella gemella che però ci ha abbandonato con la caressia del 1317 Ma adesso ciao Fernando Comunque adesso non siamo qui per discutere di tutti i nostri figli Meravigliosi, stupendi, bellissimi E soprattutto di questa genealogia di Arthur e Diomira Ci soffermeremo sicuramente a suo tempo Rendiamoci conto di quanto sono belli E quanti sono i nostri figli vivi Andiamo da Matilde ragazzi E quindi andiamo ad aprire la sua vita Perché lei merita un resoconto definitivo Anche se onestamente io non potrò mai 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 dimenticarla Comunque ringrazio Giordano come sempre per la valorizzazione di Ancestry E ancora una volta ringrazio anche Paola per tutto il supporto che ci sta dando Lungo tutta la serie Tra l'altro vi ricordo che su Discord ci sono delle stanze dedicate alla Decades E di volta in volta vanno anche a crearsi nuove stanze Adesso abbiamo una stanza anche dedicata proprio a tutta la parte storica Cenni storici Che appunto i ragazzi e nello specifico Paola sta andando a valorizzare Giordano è più specializzato sulla parte anche di genealogia Diciamo che ci sono un bel po' di cose E anche i link degli strumenti che vi possono servire per andare avanti con la vostra challenge Quindi loro stanno mettendo anche i link all'interno di un'altra stanza apposita di Excel Ancestry, le ruote delle morti eccetera eccetera Quindi se volete fare la challenge mi raccomando andate a dare un'occhiata sempre nell'info box Trovate riferimenti anche per Discord Andiamo a leggere ragazzi la storia della nostra Matilde Matilde Lucenti è nata il 27 agosto 1285 in Italia Ha sposato Tancredi Lucenti il 7 marzo del 1300 nella sua città natia Hanno avuto 12 figli e figlie in 14 anni È morta l'8 febbraio del 1327 in Italia all'età di 41 anni Allora ragazzi Matilde eccola qui Tra l'altro parte da Caterina vabbè Perché Caterina era cliccata lì nella parte precedente Andiamo subito ai momenti salienti ragazzi Guardate Matilde quando è stata creata ed è nata nel nostro cast Questo è il suo benvenuto Che ci dava con il suo faccino così suave ragazzi 27 agosto 1298 E veniamo all'evento veramente clou Tancredi e Matilde si incontrarono per la prima volta in chiesa La domenica del 17 gennaio 1300 La famiglia di Tancredi non accettò questa unione Questa storia l'avevamo già diciamo approfondita Ma sinceramente è necessario che io ricalchi questo momento fondamentale Nella vita dei nostri protagonisti La famiglia di Tancredi non accettò questa unione ragazzi Siccome Matilde era la discendente di una strega Ciao Roxy ancora viva lei PS Costrinsero Tancredi a scegliere tra la famiglia o Matilde Quando Tancredi scelse Matilde venne rinnegato dalla famiglia Perdendo l'intera eredità ed il titolo nobiliare Tancredi divenne così un contadino Oh gennaio 1300 Matilde Lucenti ha sposato Tancredi Lucenti il 7 marzo 1300 in Italia rispettivamente All'età di 14 e 16 anni Aveva 14 anni ragazzi Poi nacque Caterina Loro ebbero veramente un primo trauma appunto nel 1301 E nata e morta allo stesso giorno Il giorno ragazzi attenzione perché Matilde Il giorno dell'assunzione di Maria Ferragosto il 15 agosto Tancredi e Matilde decisero di andare nella piazza del mercato Fu qui che Matilde incontrò per la prima volta la strega Roxy Su antenata la quale nasconde uno scuro segreto A un certo punto Matilde vide sopra un tavolino Una bambola voodoo e la lega a Roxy perché ha tanta paura Quando Roxy lo saprà si vindicherà Matilde riuscirà a sconfiggerla una volta per tutte Oppure la perdonerà lo scopriremo negli anni a seguire Aveva paura ragazzi nello specifico anche e soprattutto di conseguenze nella genealogia della loro famiglia Perché appunto post morte di Caterina diciamo che era rimasta un bel po' traumatizzata la situazione E pensava che fosse proprio la maledizione di Roxy Eh sì ragazzi Eh sua figlia Transmarina nacque l'8 luglio del 1302 Ragazzi Transmarina morì poi nacque Bernardo e ehm E nacque sua figlia Diomira Bernardo e Diomira nacquero lo stesso giorno perché appunto sono gemelli Eh nelle loro eh diciamo vite ci sono stati dei momenti molto importanti Tra cui il momento del tiro con l'arco nella loro campagna Eh in cui hanno invitato appunto il re e la regina Momento fondamentale per eh come dire farsi conoscere ehm dai reali Poi nacque Fernando eh lei diventa giovane adulta Guardate quanto è carina e muore Fernando eh Nasce alberico ragazzi ricordiamoci che alberico attualmente è in vita Anna nasce nel 1307 ed è attualmente in vita nonché nostro erede Quindi per piacere mettete tutte le good vibes su alberico Poi nasce e muore Arnaldo ragazzi nel 1309 Nasce Chelele attualmente in vita Dalia che però poi muore Nasce Filippo nel 1312 attualmente in vita Attualmente frate in un'abbazia Poi ci fu Anna querene e morì però appunto durante il parto Eh ci fu la grande carestia Una serie di situazioni E ragazzi nel 1315 Matilde iniziò a leggere la Bibbia Dopo la nascita del suo figlio Riccardo Che è nato nel 1315 Matilde sente un forte bisogno di allontanare la stregoneria E inizia a leggere la Bibbia Ebbene sì ragazzi La religione aiuterà Matilde a migliorare la sua reputazione verso gli altri Qualcuno erediterà il testo sacro Lo scopriremo nei prossimi anni Eh sì ragazzi Matilde è iniziato ad approcciarsi alla religione Soprattutto perché appunto era riduce da tante maledizioni di Roxy A suo parere Roxy aveva anche provato a rubare i suoi figli E quindi diciamo che ovviamente voleva schermarsi da questa situazione E con la Bibbia ha trovato un po' di pace e serenità Poi morì Riccardo Poi morì Dalia Poi morì Bernardo Ragazzi 1315-1317 è stato un anno funesto per la nostra famiglia Ma poi ci siamo ritrovati tutti insieme alla fine della carestia Tutti in vita I rimanenti in vita Comunque contenti di essere lì Nel 1319 si sposa Diomira E per Matilde è un momento fondamentale Soprattutto perché capisce che con Tancredi sta creando veramente una famiglia meravigliosa E loro compiono 20 anni di matrimonio nel 1320 Perché appunto si erano sposati nel 1300 Poi nascono una serie di figli, nipoti, bla 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 Si sposa suo figlio Alberico nel 1324 Matilde era felicissima ragazzi E soprattutto ancora più felice quando è nato il suo nipotino Bernardo Nel 1324 Ma nel 1325 ragazzi Il Tancredi e Matilde fanno ben 25 anni di matrimonio Tuttavia ragazzi Quell'anno è davvero funesto Davvero davvero funesto Perché Tancredi muore E muore di infarto Loro erano Stavano festeggiando Quindi erano ancora sull'onda di questa gioia del festeggiamento dei 25 anni di matrimonio E Tancredi ci lascia Nasce però Matilde La nipotina in onore appunto della nonna Matilde Poi nasce anche Tancredi Un altro nipotino In onore appunto di Tancredi Si sposa sua figlia Clelia E un momento veramente particolare Nonché importante nella vita di Matilde Perché si sente assolutamente coinvolta in quello che è successo Visto che i suoi insegnamenti hanno sostanzialmente portato a questo Nel giorno del matrimonio di Clelia Matilde si accorse che Filippo Durante la celebrazione Si comportò in modo diverso rispetto agli altri Era pervaso da una forte spiritualità Dopo poco tempo Filippo confidò a Matilde il desiderio di diventare monaco Matilde accettò con tutto il cuore Consegnando la Bibbia a Filippo Avere un monaco in famiglia Era una vera benedizione Perché avrebbe aumentato la reputazione di tutti quanti Ebbene si ragazzi Quando Matilde aveva 41 anni Nel 1326 Ha un ruolo fondamentale Nel twist della vita di Filippo Che appunto prende i voti Anche grazie all'input di sua mamma E però purtroppo Nel 1327 Dopo aver dato tutto alla sua famiglia E aver anche insegnato A splendora A fare la maglia Quindi fondamentale Matilde è deceduta di congelamento Per l'amore dei Tancredi L'8 febbraio 1327 Il suo cuore si è fermato Si è congelato Perché non poteva più dare nulla Ragazzi In Italia All'età di 41 anni Lasciando i suoi figli Diomira Alberico Clelia E Filippo Il genero Arthur La nuova splendora Il genero Camon I nipoti Bjorn Cornelia Margherita Sibilla Matilde E Tancredi Verme Ragazzi Se questa non è stata Una bella famiglia Un bel lascito Non so cosa possa esserlo Il funerale si svolse In chiesa Il 9 febbraio Del 1327 La sua lapide Fu deposta vicino A quelle dell'amato Marito Tancredi E dei figli Deciduti prima di lei Matilde Matilde Ovunque tu sei Ovunque tu sarai Sappi che noi Ti venceremo sempre E se tutto questo È possibile E tutta la famiglia Sta crescendo Con sani valori È solo grazie a te E all'amore Che nutrivi Per Tancredi Certo Gli hai fatto rinunciare Alla nobiltà Però ragazzi Avete capito Che cosa abbiamo creato Veramente Una famiglia Meravigliosa Quindi adesso Torniamo subito A vivere E ringraziamo ancora una volta Matilde Ma soprattutto Ragazzi Come ho fatto Per Tancredi Lasciatevi nei commenti Il vostro pensiero Per Matilde E soprattutto Cosa vi ricordate Maggiormente Della sua vita Cosa vi è rimasto Il più impresso E perché Appunto Rimarrà Nei vostri cuori Così come ovviamente Nei nostri E in quelli Delle nostre Altri sim Che rimangono Ancora in vita Grazie al cielo Ci vediamo Tra un secondo Perché torniamo A vivere E buongiorno a tutti Ragazzi Eccoci qua Nel 1328 Primo giorno Domenica E prima di cominciare Volevo farvi un appunto Grazie mille Per avermelo fatto notare Nello specifico Occhio attento Attentissimo Di azzurra E non solo Perché in realtà Anche altre persone Me l'avevano scritto In privato Siete stati bravissime Ragazzi Perché in effetti Abbiamo rischiato Veramente di brutto Nello scorso episodio Perché sono una capra E perché Adesso vi faccio vedere Un attimino L'Excel Come potete notare Infatti Il numero 7 Come vedete qui Non corrispondeva Al passaggio A giovane adulto Così come dovevamo fare Per nostro figlio Alberico Ma ad adolescente Io Proprio Svampita Forse perché C'erano tipo 180 dadi Nello scorso episodio Non lo so Ma Avevo detto Che dovevo uscire Il numero 7 Quindi era semplice Col cavolo ragazzi Perché se fossero usciti 2, 6, 11, 13 E 14 Noi saremmo Morti ragazzi E io Vedevo questo Della serie Potevo uscire anche il 2 E in testa a me Ero salva Invece no 2 Saremmo morti Per fortuna E' uscito il 4 Quindi siamo salvi In ogni caso Altrimenti Avrei perso anche Alberico Ragazzi Veramente non ho parole Con l'occasione Comunque Vi faccio vedere Fino a qui Tutto quello che è successo 1327 Fino al 1327 Ragazzi Come potete notare Ogni giorno C'è una cosa Guardate E ogni giorno C'è un passaggio D'età Un matrimonio Un compleanno All'inizio Eravamo veramente C'erano pochissime Pochissime persone Adesso Mano a mano Che andiamo sempre più avanti Con i colori Più scuri Abbiamo le famiglie Secondarie Ed è un macello Ragazzi Come potete vedere Tra famiglie Secondarie E famiglie principali È un casino totale La cosa buona Comunque È l'Excel Avere l'Excel Perché altrimenti Io non saprei Veramente come fare Poi per ogni Sim Abbiamo anche Quest'altro sheet Che io vi avevo Fatto vedere già Quando vi ho presentato Gli strumenti Eccetera E poi ve lo faccio vedere Alla fine di ogni Decade Di solito Però appunto Visto che adesso Siamo qui Volevo farvi dare Una sbirciatina Come potete notare Guardate ragazzi Le famiglie Sono in crescita Esponenziale Adesso abbiamo Circa 30 sim Anche se in realtà Appunto Asia Già è morta Gli altri sono morti Ne abbiamo venti Una ventina Comunque Comunque Diciamo che Si sta facendo Bello complicatuccio Il nostro Schema familiare Ma io sono contentissima Ragazzi Perché questo vuol dire Che stiamo andando bene E soprattutto Rendiamoci conto 28 anni Già abbiamo compiuto Oh che ricordi Comunque Fatemi sapere Se anche questo Vi può essere utile Se avete domande Sull'Excel Vi ricordo di scrivere Nella stanza apposita E ritorniamo a vivere E ritorniamo a vivere finalmente Ed eccoci finalmente a vivere Ragazzi Con una grandiosa notizia E anche con un grandioso pasto Perché dovete sapere Che Splendora Sta veramente dando Il meglio di sé E cos'è quella Sì ragazzi Il nostro alberico Ha una barbetta Davvero niente male Io lo amo Scusatemi Ditemi se non è La versione migliore Di Tancredi No ragazzi Non ce la posso fare A me piace un sacco Ma ovviamente Attendo i vostri commenti Fatemi sapere Se vi piace Con questo Come dire Taglio di barbetta Molto così Comunque lo adoro E appunto Splendora Ha preparato Un piccione arrostito Ragazzi Un piccione che tipo I piccioni che stanno a Milano In poche parole Gigantesco Ma mi volevo soffermare Un attimino Sullo sguardo Di Splendora Nei confronti Di suo marito Ragazzi Io li adoro Questi due piccioncini Piccioncini E guardate il piatto singolo Quanto è bello Eccellente Tra l'altro Vi volevo far notare Anche che Lui sta diffondendo amore Perché è generoso Ragazzi Infatti se vediamo Da lei Ho trovato questo Buff Oh mio dio Ricevuto Ricevute delle parole Gentili Per aver ricevuto Un incoraggiamento E è stato un bel gesto Perché la gente Non lo fa più spesso Per un breve periodo Sprendora Assingerà amicizie Più rapidamente Ragazzi Che bello Mi fa molto piacere Questa cosa Comunque Le vorrebbe anche Sonnare la chitarra Ovviamente Stiamo parlando Di questa Cara Grazie per aver cucinato Per aver preparato Tutte queste cose Stanno andando a dare Il bacio della buonanotte Perché giustamente Amando come una persona Adorabile Sono molto molto contenta Che lui Abbia scelto Splendora Ma non ci dimentichiamo Ragazzi Che ho ricevuto Anche tantissimi Complimenti Per la scelta Fatta Ovvero Di unire Pietro Pietro Robert Con Beatrice Quindi io Non escludo Che con Beatrice Possa Come dire Andare avanti Anche un'amicizia Magari Di coppia Allora Nel frattempo Vieni qui Ah Bravo Sta badando al giardino Mannaggia La miseria Ragazzi Ci hai spiegato Un'altra volta Allora Lo faccio andare A badare al giardino Bravissimo Io devo ogni volta Far evolvere Tutte le piante Vedete che adesso Non lo fa Ogni tanto Non me lo fa fare Che anche quelle Con i brillantini Qui non me lo fa Evolvere Allora Fa evolvere questo Fa evolvere quello Perché ovviamente Facendolo evolvere Mi varranno Anche di più Però ogni tanto Vedete Forse quando Non hanno Non lo so E comunque ragazzi Uno dei suoi obiettivi È non incespicare Per quattro ore Perché è goffo Quindi non credo Che riusciremo a farlo Visto che mi sta Incespicando Un momento sì E un momento pure Vediamo se posso Far evolvere Vedete Ma perché Eppure avevo i brillantini Scusami Ma è rivienuto qui Fatti chiedere un consiglio Vediamo che consiglio Mi sta chiedendo No Non si può sapere Ragazzi Chissà Se ha qualche segreto Splendora Probabilmente Io credo Che abbia Un dubbio Più che Un consiglio Da chiedere Secondo me Il fatto che Non ci sia più Matilde in casa L'ha lasciata Oddio Lo sapevo L'ha lasciata Un po' in dubbio Su se stia facendo Veramente un buon lavoro Io non so bene Cosa voglio fare Da grande Mentre tutti i miei amici Sembrano avere già deciso Come faccio A decidermi anch'io Scegli qualcosa Che ti piace Certo Mi sembra ovviamente Giusta questa cosa Allora Scusatemi In tutto ciò Complimentati per l'aspetto Ragazzi Ma non è che Quasi Oddio Ma no Tu sei perfetta così Come sei Splendora Sta attraversando Una fase un po' Nervosetta Ragazzi Vediamo un attimino Qual è la sua fase Attualmente Ribelle Paura dei sogni Irrealizzati Dobbiamo farle capire Che noi ci saremo Sempre per lei Tra l'altro Lui è molto flirtante Quindi non escludo Che questa cosa Porterà Ecco Sì sì certo Porterà anche qualcosa Magari I suoi frutti Dichiara l'amore Pubblicamente Diglielo Oh ragazzi Che dolci Mamma mia Splendora Sei bellissima Stupendi Oh Io ti amo Splendora E per me Sei perfetta Hai avuto il benestare Anche di mia madre Quindi Da quando se n'è andata Sento Matilde Ancora più vicina Perché è nell'aria Ragazzi È nell'aria Ma non ho capito Nel frattempo È stata chiamata da È stata chiamata da Oh mio Dio Stanno cercando Di avere un figlio Nel capanno Alberico Io lo sapevo Che era molto flertante Ragazzi lo sapevo Giustamente non hanno voluto Fare nulla qui Perché la piccolina Sta dormendo O quantomeno Voleva dormire Con un pannolino pulito Ma Splendora Non è riuscito A plagare I bollenti spiriti Di Alberico Giustamente Ragazzi ma Scusatemi È la prima volta Da quando Mamma e papà L'hanno fatto Qui dentro Che qualcuno Profana Il capanno Perché Matilde e Tancredi Già lo fecero Ai tempi E furono Gli unici Ragazzi Perché poi Nessuno più Ha osato Profanare Questo capanno Giustamente Adesso che Matilde non c'è più No vabbè Ragazzi Mi fanno impazzire Questi due Giustamente I piccolini Che sono a casa Non possono essere Infastiditi Con Questi Gemiti Addirittura Addirittura Ragazzi Voglio proprio Vedere L'espressione Di due Quando usciranno Da questo capanno Vi stiamo aspettando Ragazzuoli Eccoli No Ragazzi Vi giuro Io guardo Alberico E vedo Tancredi Però appunto La sua versione È bella Non so voi Che cosa ne pensiate Nel frattempo Dobbiamo andarci A prendere cura Anche dei piccolini Ecco infatti Allora Alberico È andato a fare Il bagnetto Al piccolo Tancredi Mentre E ha fatto La pupù Esatto È una pupù Bella Grande Mentre invece Tu vieni Qui E direi Cura dei neonati Cambia pannolino Perfettamente Perfettamente Lui sta andando A pulirlo A pulire il piccolo Tancredi Spero di sì No 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 Non nutri col biberon Vagli a fare Un bel bagnetto Ragazzi Devono darsi una mano L'uno con l'altra Perché giustamente Non è che può fare Tutto Plendora Uh Pietra miliare Quale Ridi Ridi Nonostante ci sia Solo da piangere Però Meraviglioso E Hai cambiato il pannolino Alla piccolina Oh Fai una pernacchia Sulla pelle Sì L'ha buttato Giustamente anche a terra Il pannolino Ti voglio bene Piccolina Vediamo Marameo Ragazzi Che dolci Scusatemi Ma Ok Avete ancora La scena Non vorrei dirvi Quindi Venite anche qui E Chiama Al pasto grandioso Attenzione E Il Il mio Il mio maritino È veramente Un padre Amorevole Perfetto Ragazzi Perfetto È venuto a chiamare Anche Alberico Che però Nel frattempo Ragazzi Vedo Che è Assolutamente Che succede? Oh mio Dio Che c'è? Oh santa pace Ragazzi Che cosa Cavolo Sta succedendo A splendora A splendora Oddio È statica Per l'onda emotiva Pure abbia attitudine Ne ricordare tutti i momenti significativi Della sua vita Cosa? Cosa? Ragazzi Si mangia per due? Forse per questo? Oh mio Dio Splendora Forse non se lo aspettava Di rimanere incinta Con così poco preavviso Oddio Con così poca distanza Rispetto Al piccolo Tancredi Ebbene Sì ragazzi Stiamo aspettando Un altro piccolino Oddio Non vedo l'ora Non vedo l'ora E in questo primo giorno Ma che Sta già vomitando Non lo so Comunque Questo primo giorno Nel 1328 Ragazzi Non poteva cominciare Nel migliore Anzi In un modo migliore Perché Onestamente Splendora Incinta Ci dà un altro figlio Prepara questa cena Pranzo Tutto quello Cioè io veramente Ragazzi Mi ritengo Molto molto fortunata Però adesso direi Che dobbiamo lasciare Un attimo Questa famigliola E recarci altrove Essere straordinario Per un zima dorato Ne paraggi Oh che dolce Scusatemi Perché era uscito Ah ok Primo bagno sbloccato Giustamente E lui Che Credo In me Avere un legame stretto Il mio orgoglio No ragazzi Veramente Io li adoro Ragazzi Io non so Che cosa cavolo Si è successo Sono le 11 Stavo trasferendo Appunto Da un'altra famiglia Ma Praticamente Abbiamo sentito Dei rumori Dalla cucina E Improvvisamente Mi affaccio E Per miracolo Sono arrivati Qui Sulla tavola Dei piatti Cioè Si è creata Una tavola Inbandita Ingredienti Farine Zucchero Carne Pesce No pesce no L'unica cosa che non c'è Zucchero Farina Formaggio Pane Non ci credo Che cavolo è successo Ragazzi Allora Io sospetto Io sospetto Che Matilde Dall'oltretomba Si sia fatta sentire E abbia Apprezzato Quello che stanno facendo Alberico E splendora E Abbia mandato Tutto questo Ben di Dio Io non so Nemmeno Probabilmente Queste erano Tutte le cose Che aveva a disposizione Matilde Quando era in vita E ha deciso Di portarle Qui da loro Mi viene da pensare Questo Perché ragazzi Se ci affacciamo Qui Vediamo A terra La bambola Voodoo Oh mio Dio Di Matilde Si ragazzi Eravamo convinti Di aver seppellito Matilde Con tutti i suoi beni E quindi Anche con questo Perché avevano Diciamo Creato Una situazione Propizia Anche al suo viaggio Nell'aldilà E Avevano pensato Di Farle una cosa gradita Mettendo tutti i suoi averi All'interno Della Della bar Compresa Ragazzi Roxy Maschio Compresa Dicevo Scusatemi Roxy si è sposata Compresa La bambola Voodoo E invece Ce la siamo ritrovata Qui ragazzi Matilde ha voluto Regalarci tutto Quello che si era portata Nella tomba E Non so se riuscite a vedere Ma adesso abbiamo 5098 simoleon Perché Gran parte Dei suoi averi Sono stati Venduti Aveva tanta Anche Frutta Verdura E adesso Loro hanno 5098 simoleon Questo vuol dire Tra l'altro Che a lui Manca veramente Pochissimo Per guadagnare 5000 simoleon E mettere da parte 10.000 simoleon Vedete Da qui Io non ci posso Credere ragazzi Però scusatemi Un attimo Perché adesso Mi sovviene Un dubbio Ma loro risultano Ancora essere Pezzenti If you know what I mean Vediamo un attimino Ah si Ok Lui ha molta autossima Attenzione Però Si Chi è che Chi ha bussato Oh mio dio È arrivato anche Diomira Davanti a casa mia Ragazzi Aiuto Andiamo a darle Il benvenuto E soprattutto Ragazzi Vorrei darle Anche la notizia Che nostra madre Ha dato un segno Ancora della sua presenza Dall'oltretomba Mannaggia la miseria Si è variato il piccione Dobbiamo muoverci A mangiare tutto Questo ben di dio Ragazzi Perché Il piccione Si è variato Ma tutto il resto È ancora buono Mi sembra Oh no Oh no Allora Eat a serving Io direi Chiama a tavola Tutti ragazzi Assolutamente Invitiamo ad entrare Diomira Niente ragazzi Siamo delle persone Orribili Oh Giustamente Diomira mi ha fatto notare Che mentre Non fosse arrivata Clelia Dalla sua città Si sarebbe fatta Veramente Che il giorno dopo Quindi ha mangiato Qualcosina E se n'è andata Ma abbiamo Praticamente ancora Tutto qui Di avariato Ma io me lo mangerò Ragazzi Non me ne frega Proprio niente Nel frattempo Abbiamo fatto vedere Anche a tutti Che appunto Matilde Ci ha fatto Ci ha concesso Questa grazia E io sono Veramente Tanto Tanto Contenta Di Come dire Essermela meritata Sì ragazzi Lo dico Proprio In tutto E per tutto Abbiamo del pane Guardate qui Ah vabbè Carne di bassa qualità Però Comunque ci può essere Assolutamente Tutto utile Quindi vado a mettere Anche il pollame Qui E buongiorno Ragazzi Ci abbiamo messo Un po' di orette A venire qui Da Clelia E Camon Tra l'altro Camon È stato fuori Praticamente Tutta la notte Questo è il motivo Per cui adesso Stanno dormendo Perché è andato A Diciamo A cercare Un po' di carne Nel bosco Infatti vorrei vedere Se ha trovato qualcosa Adoro Fantastico Ok Quindi Ovviamente Lui Nonostante appunto Si dedichi Maggiormente Oh mio Dio Ragazzi Nonostante Lui si dedichi Maggiormente Al Alla parte Di pane Direi che questo Ce lo possiamo Andare a vendere È un maestro Panificatore Diciamo che ovviamente Adesso deve fare Anche l'uomo Di casa Andando A cercare La carne Che adesso Non può più Trovare Il padre Di Clelia Guardate qui Ragazzi Non me li avevo mai Fatti vedere Da fuori In effetti Ora che ci penso Comunque mettiamo Tutto nell'inventario Di Clelia Perché appunto Sarà lei che dovrà Cucinare E tutto il resto Lui comunque Ha fatto anche Un formaggio Eccellente Ragazzi Non vedo l'ora Di assaggiarlo Ma adesso Direi che ci prendiamo Un attimo di tempo Per onorare Questa casa Ragazzi Creata per noi Da Paola Anche questa volta Io vi faccio vedere Gli spazi esterni Ovviamente Ragazzi Chiudiamo un occhio Su quella che è La parte di scenario Qui Perché ovviamente Ci sono delle cose Abbastanza anacronistiche A Brindleton Bay Ma mi piaceva tantissimo Come scenario Ovviamente Qui Diciamo che C'è un glitch Spazio temporale Comunque Io adoro tutto Perché Al piano di sotto Ragazzi Il nostro Camon Appunto Ha scelto di avere Un Un angolo Da Da forno Diciamo Quindi potrà anche Vendere i suoi prodotti Da questa parte In cambio di soldi Ovviamente Alle persone del quartiere Qui ovviamente Abbiamo i nostri Piccioni viaggiatori E guardate che bello Abbiamo anche L'insegna Del panificio Ovviamente Tutto questo Vi faccio vedere Quanto è bello Anche dall'alto Perché abbiamo Proprio un angoletto Qui all'esterno Con anche Dei fuochi Aggiuntivi Che possono essere usati Anche per la nostra famiglia Ovviamente Invece Di qua Abbiamo Guardate l'esterno Qui Qui c'è La La vaschetta Come si dice La Come si chiama La tinozza Ecco Per lavare i panni Il filo Lo abbiamo Invece Oddio dove abbiamo il filo Ah eccolo qua Scusate mi si sovrapponeva E qui Abbiamo il nostro Pozzo per l'acqua Perché ovviamente Anche in questo caso Siamo Dobbiamo fare affidamento Sulle risorse idriche Che arrivano dal pozzo Andiamo invece Al piano Di sotto Al primo piano Ragazzi Dove abbiamo Ovviamente Lo spazio Di vita Quindi dedicato Alla quotidianità Ma anche alla zona notte Io credo Di essere Innamorata Ragazzi Di tutto questo Innanzitutto Vi faccio vedere Che confina Con la parte esterna Diciamo Dedicata appunto Al lavoro di Camon Anche la cucina Perché così Lui può cucinare Sia all'interno Che all'esterno Ovviamente Quello che È dedicato Alla parte Lavorativa Quindi cucina Per vendere Mentre invece La cucina Ordinaria Tutto quello Che si deve fare Per la famiglia Lo farà Ovviamente La nostra Clelia Abbiamo Qui poi La zona notte E qui c'è Anche una collettina Madonna ragazzi Io adoro tutto Questi angoli Mi fanno impazzire Guardate la finestra Anche i dettagli Delle mura Quindi volevo Veramente Dedicarmi All'home tour Per bene Anche perché Volta scorsa Abbiamo avuto Tanti di quei dadi E degli shock Anche con questa famiglia Che ovviamente Abbiamo soprasseduto Poi abbiamo Qui ragazzi Anche un altro Focolare Ovviamente ci sono Gnomi che mi vado A vendere Perché c'è stata La festa del raccolto Ma nel panico Che abbiamo vissuto In passato Non ce ne siamo dedicati Questa è la camera Appunto Dei nostri genitori Anche se Non hanno bambini Più Ma li considero tali E poi abbiamo Una scala Che porta Al piano di sopra Ragazzi In questo caso Io Veramente Adoro L'ambiente Che si è creato Perché è molto Casalingo Intimo Quindi abbiamo Tante candele Mi piace un sacco E abbiamo Appunto La sala da pranzo Con un bellissimo E grande camino Anche qui Qui tra l'altro Abbiamo Un divanetto Che anche Mi piace tantissimo Anche una tavola Per giocare A scacchi E da qui Abbiamo il bagno Che sostanzialmente È un'altra tinozza E guardate qui Questa è una doccia Questo è per il bagno Cioè diciamo Qui si vanno a lavare In piedi Per farla breve Qui si vanno a lavare Sdraiati E tutte le cose Che a loro serve Per fare la pipì E quindi questo ragazzi Secondo me È adorabile E adoro Tantissimo Questa parte qui Che è molto utile Soprattutto per Clelia Perché mentre Suo marito Magari può utilizzare Questo accesso Per entrare Ed uscire Dalla parte Lavorativa Clelia invece Continuerà ad usare Questa parte Per salire Andare direttamente In sala da pranzo E poi scendere Verso la zona notte Secondo me È quanto di più Adorabile Io potessi avere Per loro due Tra l'altro ragazzi Non so se avete notato Ma hanno scelto Di appendere La manina Della loro Prima figlia Della piccola Asia Impronta infantile Di Asia E L'hanno fatto Nell'argilla Mi piace tantissimo Pensare ancora a lei Comunque quindi Adesso Li faccio un attimino Riposare Allora ragazzi Clelia si è appena svegliata Adesso si sta vestendo Perché Il nostro Camon Giustamente Che vorrebbe Prendersi una vacanza Visto che Sono state giornate E mesi Stressantissimi Ma adesso Di ritorno Dalla caccia Si è messo a dormire E lei per ringraziarlo Di tutto quello Che ha fatto per lei Non soltanto oggi Appunto Andando a caccia E portando tutti Quegli animali Che lei quindi Potrà cucinare Ma anche salvandole La vita Ragazzi Ci rendiamo conto Che Camon E il suo amore Ha salvato La vita Alla nostra Clelia Io Sarò grata A Camon Per tutta La nostra vita Quindi ha deciso Di andare Al mercato E va a spendere Un po' Dei loro soldini Perché D'altronde Ne abbiamo Comunque se notate Qualche piccola modifica Che ho apportato Rigorosamente Dopo farvi Dopo avervi fatto L'home tour È perché Volevo farvi vedere Tutto In maniera Illibata Quella che era La creazione Di Paola Ma ho apportato Una piccola modifica Ho inserito Proprio Un banchetto Qui Per consentire Al nostro Camon Proprio Di mettere in vendita Alcuni dei suoi prodotti Allora ragazzi Io vado a Comprare Un po' Di carote Un po' Di funghi Facciamo così Vediamo Vorrei spendere Al massimo 200 simoleon Facciamo così Allora Carote Funghi Lamponi Perché sicuramente Posso fare qualcosa Anche con questo Un po' Di piselli Spinaci Zucca Ah 213 Zucca 200 Pomodoro Facciamo 260 Dai Aspettate No 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 Allora Togliamo un po' Di funghi Ok Va bene così Ragazzi Va bene così Anche un po' Di pomodoro Secondo me Può servirci Ok Sulla zucca abnorme Oh mamma Ha avuto qualcosa Di abnorme Forse la zucca Si in effetti E tra l'altro Ragazzi Vorrebbe chiacchierare Con un simo Per cui ha una cotta Che guarda caso È proprio suo marito Io adoro Scusatemi Ma a sorpresa La nostra Clelia Che è tornata Dalle sue faccende Al villaggio Aveva un asso Nella manica Ragazzi E infatti Vi faccio vedere Andiamo a preparare Una bella torta Oddio ragazzi Praticamente Si è accaparrata Farina e burro Al mercato Così che può Anche andare ad utilizzare Il pollo Che suo marito È andato a prendere Nel bosco Quindi andiamo a fare Una bella chicken pie In realtà Potremmo fare anche Una torta al formaggio Grazie al formaggio Sempre che Ha preparato Suo marito Io direi di farle Entrambe ragazzi Così Diciamo Rendiamo Onore Come si deve A suo marito Che tra l'altro Al momento Sta entrando nel forno Qui Che sta tizzando Non lo so davvero Comunque Fantastico Mi fa molto molto piacere Che adesso Ci stiamo Stiamo iniziando A muovere i primi passi Nella cucina Al cento per cento Guardate qui ragazzi Tra l'altro Tutti questi Espositori Che abbiamo Proprio Con tutte le Le cornie Che prepara Il nostro Camon Ma come vi ho detto Anche Ovviamente Clelia Si sta dando Da fare Un bel po' E adesso Manca farla apposta Sta preparando Qualcosa Col formaggio Giustamente Abbiamo anche Abbiamo anche Vari tipi di formaggio Facci vedere Clelia Cioè ragazzi Guardate che ha fatto È meravigliosa Quella torta Che poi diventa Improvvisamente Un brodo E nel frattempo Camon Che le manda Baci Camon Magari puoi ripulire Anche un po' Questa sporcizia Che ne pensi E scusatemi Perché vi volevo Anche far notare Che lei non si è Dimenticata Di quello che lui Ha fatto per lei Infatti ci dice Al sicuro Dal mio editore Ancora per un'ora Niente paura È arrivato un sim Che ha salvato Clelia Dalla morte Madonna mia Ragazzi Cioè veramente Ce la siamo vista Brutta Io spero Che Camon Sarà anche felice Di quello che sto Facendo io Per lui Anche se Non potrò mai Ripagarlo Di quello Che ha fatto Allora ragazzi Praticamente Clelia non ha fatto Nemmeno in tempo A finire di fare La torta al formaggio Che Camon Ha dimostrato Subito Già La sua gratitudine E le ha chiesto Di andare In camera Da letto Oh mio dio Ragazzi Visto I traumi Che abbiamo vissuto In passato Sinceramente Ho veramente Timore Per eventuali Nuovi figli Che loro avranno Ma Voglio ben sperare Voglio ben sperare Speriamo Tra l'altro Che nonostante Lo shock Lei riesca A rimanere incinta Nuovamente Vediamo E dopo la fatica Ovviamente Camon Si viene a gustare La torta al formaggio Uh L'ha apprezzata Tantissimo Qualità Eccellente Grande Clelia Ragazzi Gli insegnamenti Della mamma Sono serviti Comunque Lei deve andare A fare la pipì Tra l'altro Voglio vedere Se riuscirà A mangiare Con facilità Questa torta Oppure Le procurerà Un po' Di acidità Cosa del genere Potrebbe farci pensare Che sia già incinta Non credo Sinceramente Però Vediamo Vediamo Ragazzi Proviamo a buttare Un occhio E cerchiamo Di essere attenti Fare il burro Il miele Comunque bassino Lei ha preparato Venga in bagno Vuoi osservarla Guarda che deve andare A fare la pipì Ok Finalmente Ce l'ha fatta Ad arrivare Lei Cosa Oh mio dio Ragazzi Non ci credo Ma allora È incinta Ma non dovevi Venire a fare la pipì Tu Scusami Scusami Lavati le mani Usa Ragazzi Scusate Ma lei Doveva fare la pipì Oh mio dio È incinta Clelia Di nuovo Oddio Quanto sono fiera Di te Chi cavolo È questa Oddio Ragazzi Scusatemi In tutto ciò Io vorrei anche Che loro magari Bevessero questa Prelibatezza Buy it A serving Che bello Ragazzi Adoro Tra l'altro Vi ripeto Qualità eccellente Scusatemi Prendiamoci un attimo Per Ammirare Camon Che è stupendo Con il suo turbante Sta apprezzando Anche Il Il Sidro Mi piace un sacco Tutto ciò Adoro Ragazzi Incinta di nuovo Clelia Oh mio dio Non vedo l'ora Non vedo l'ora Di scoprire di chi Di cosa Di quanti Speriamo che stavolta Vada tutto bene E ragazzi Siamo ritornati Proprio in un momento Saliente Perché È martedì E tra l'altro Vi faccio notare Che è il terzo No anzi Il penultimo giorno Di questo anno Ed è il compleanno Di Tancredi E proprio nel giorno Del suo compleanno Lui ha imparato A balbettare Tancredi Ragazzi Però Stavolta Non sbaglierò Il dado E quindi Dobbiamo scoprire Se lui Diventerà O meno Bebé A tal proposito Vi faccio Vedere Che ecco Adesso Ve la mostro Direttamente La schermata Affinché Lui appunto Diventi Bebé Non devono uscire Il 4 E l'8 Stavolta Non si sbaglia Quindi Andiamo subito A lanciare il dado E preghiamo Affinché Il nostro Tancredi Campi Quanto Tancredi Eccoci qua Quindi abbiamo detto Il 4 E l'8 Andiamo subito A lanciarlo Ragazzi 4 e 8 Non devono uscire No 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 ragazzi No ragazzi Non sta succedendo Veramente Non stiamo Dando No No Lo stiamo dicendo Dio Tancredi Il nostro figlio Maschio 4 e 8 4 e 8 No 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 Ragazzi Non pensavo Di dover Ritornare qui Ebbene Sì Allora Andiamo a vedere Di che cavolo È morto Tancredi Perché io Veramente Non ci posso Credere Andiamo a lanciare Sta ruota Del cavolo E vediamo Oh mio Dio Era sotto peso Troppo piccolo Troppo piccolo No Ragazzi Tancredi Non è stato Non ha preso Tutti i nutrienti Che servivano Per la sua crescita Sana e forte No Splendorone Rimarrà distrutta Non ci posso Credere Ragazzi E anche io Visto che era Un mio erede Ragazzi Io sono veramente Afflitta Sconvolta Ma prima Di dargli addio Io direi Che adesso Lo facciamo Diventare Bebè Mamma mia Ragazzi Non ci posso Credere Ve lo giuro Lo facciamo Diventare Bebè E lo vedremo Appunto Ah Ah attenzione Il suo pancino Cresce nel frattempo Ragazzi Voglio sperare Che ci sia Anche una Una sorpresa Qui Non lo so Posso illudermi Posso illudermi Che magari ci sarà Un maschietto Un altro maschietto Ragazzi Il nostro Tancredi Che tra l'altro È cresciuto Con un ricciolino Importante Pensavamo Che fosse sano E forte Ed eccolo qui È anche Energico Tra l'altro Ma lui non sa Che purtroppo I suoi organi Non sono cresciuti Abbastanza E quindi Dobbiamo dirgli Addio Tra l'altro Aveva anche Una stravaganza Vagabondo Amore Aveva tanta voglia Di fare No No Affamato Affamato È morto Ragazzi Ma non perché Avesse fame Con queste zampe Oblunghe Ma perché I suoi muscoli Non erano abbastanza Forti Non avevano abbastanza Cibo E proprietà E valori nutrizionali No Ragazzi Vi prego Vi prego Ditemi che sta arrivando Il tristo mititore E riusciamo Ad ottenere La grazia Anche questa volta Vi prego D'altronde Mia mamma Mi ha dato Tanti segnali Della sua presenza Magari questa volta Riusciremo anche A salvare Il nostro figlio Ti prego Tristo Ti prego Ti prego Tristo Ti prego Tristo Ti prego Chiedi di risparmare Ad Ancredi Ragazzi 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 Ti prego Tristo È un bambino È solo un bambino Prometto che gli darò Da mangiare meglio Di più È meglio Ragazzi Ragazzi Sta succedendo Sta succedendo Sta succedendo Ho sentito Ragazzi C'è della gioia Nei suoi occhi Tancredi Se ne va Scusatemi Alberico Alberico Ma Ragazzi Vi prego Sì Sì Sta succedendo Di nuovo Sei la mia salvezza E quando succede Ragazzi Oddio Forse ho capito male Ragazzi Mi prego Alberico Sta succedendo Sta succedendo Sì 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 Oh mio Dio Figlio mio Figlio mio Splendora Splendora Guardalo È sano È sano È rigoglioso È il suo ricciolo È meraviglioso Ragazzi Non ci credo Ve lo giuro Lui pieno di vita Sì Ti giuro Ti darò da mangiare Tutti i giorni Tutti i giorni Probabilmente Ragazzi Lui è riuscito Ecco È anche distruttivo Adesso Lui è riuscito A sopravvivere Perché era proprio Con questa verba Energica Sfioramento Della morte Oh mio Dio Ragazzi In due episodi Abbiamo ricevuto La grazia Due volte Ma io questa volta Mi gioco tutto Che è stato tutto Grazie a Matilde E alla sua presenza Qui con noi Matilde grazie Ragazzi Per onorare il tristo E per ringraziarlo Di questo miracolo Il nostro alberico È venuto a preparare Non so cosa Vi giuro Non so cosa Cavolo Ha preparato Ma sta chiamando Tutti quanti a tavola Per festeggiare E chi sono io Per rifiutarmi Ovviamente Tutto questo È indirizzato A far mangiare Il nostro Tancredi Quindi Tancredi Vieni immediatamente Qui Cioè tutto questo È stato preparato Per te Sappilo E infatti ragazzi Non a caso Ha fame Tancredi Amore di Mamma Sì potrei dire Ragazzi Sta venendo ovviamente Anche Splendora Che in realtà Nel frattempo Sta pulendo La piccolina La piccola Matilde Ma quello che ci interessa È che mangi Mio figlio Perché io Non lo vedrò Nuovamente Morire Andare via Ragazzi Non ci posso credere Ve lo giuro Che cacchio di decade è stata Sarà difficilissimo Fare il resoconto Alla fine Ragazzi Alberico è andato a dormire Dopo aver preparato Questo pasto meraviglioso Per suo figlio E lui è qui Che sta mangiando L'ha messo qui Accanto a lui Non a caso E guardiamolo bene Questo bambino Perché è di una meraviglia Assurda ragazzi Non meritavamo Di perderlo E soprattutto Probabilmente Dobbiamo anche Ringraziare Il fatto che Filippo sia così vicino Alla chiesa E guardate Lì abbiamo Un bellissimo Crucifisso Che probabilmente Sta begliando Su di noi Buon appetito Piccolo Mio Nostro Di tutti Ragazzi Lasciate un messaggio Per il piccolo Tancredi Vegliate su di lui Perché secondo me Ci serve assolutamente E adesso Cambiamo unità familiare Perché tra pochino Abbiamo un altro dato Da lanciare E ragazzi miei Sì Siamo tornati Da Diomira Dopo un bel po' Di tempo Tra l'altro Una casa Che è un disastro Ma io ci credo Abbiamo 3, 4, 5, 6 figli E adesso Ragazzi Le nostre piccoline Le nostre gemelle Margherita E Sibilla Vedremo Se passeranno Finalmente D'età Vi giuro Io non vedo l'ora Anche perché Dovranno diventare Bambine Se ovviamente Il signore Vorrà E a tal proposito Vi faccio vedere Dall'excel Così non faccio errori Che per diventare Bambino Non dovranno uscire I numeri 9 e 19 Quindi ragazzi Vado subito A lanciare il dato Ricordatevi 9 e 19 Allora Lanciamo prima Il dato ragazzi Per Margherita Che è la prima Ad essere uscita Dalla mammina Quindi 9 e 19 3, 2, 1 Sì 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 Ok E adesso Sibilla 3, 2, 1 Sì Ma vanno ragazzi Per uno Per uno Rischiamamo Ok ragazzi Ragazzi Oddio Oggi ci sono stati Pochi compleanni Relativamente Ma Mi sento così Fortunata Così Fortunata Ok ragazzi Vediamole subito Bambine Entrambe Cacchiarola Ragazzi La gente più ignoratore Mi sta prendendo Il pozzo Perché non ho potuto Pagare più di Mille simoleon Di bollette E mi ha buggato Anche tutte le bambine Mannaggia Attenzione Perché Margherita È passata D'età Ragazzi 1, 2, 3 Testa calda E io direi Socevole Comunque Anzi Estroversa Comunque Ci può stare E a brevissimo L'andiamo a vedere Nel Dove cavolo sei Nel cast E ha messo Un lucida labbra Oddio O è proprio Il suo colore Delle labbra Lo andiamo a vedere Ragazzi Tra l'altro Aveva anche Molta fame Ecco Giusto in tempo È passata d'età E vediamo anche Il compleanno Di sua sorella Mentre sto cacchio Di pignoratore Mi sta rubando tutto Sibilla Gentilmente Sibilla Poi Ok Si è sbagata Anche lei E andiamo a vedere 1, 2 2, 3 Oh Estroversa Ragazzi Lei in questo caso La definirei Artistica Comunque Sono due sorelle Con caratteri Un po' diversi Ma No vabbè ragazzi Scusatemi Ma lei Ma che cacchio Di bellezza è Allora Sono molto simili Secondo me Ma le dobbiamo Vedere urgentemente Nel cast Ragazzi Buon compleanno Alle mie sorelle Del destino Le nuove Sweet sisters Come d'altronde Di Umira E sua sorella Clelia No ragazzi Il pignolatore Mi ha tolto Il pollaio Il pollaio Oh mio dio Vi prego Ditemi che non Mi toglierà Anche le galline Oh cacchiarola Allora Gentilmente Tu Non lo so Come puoi fare A dare da mangiare Loro Non ce l'ha fatta Trovare il proprio Pollaio Potrebbe darsi Alla fuga Ragazzi Veniamo subito A dare da mangiare All loro Perché Loro Non hanno Il pollaio Oh mio dio Devo comprare Tiene uno nuovo Vabbè Andiamo un attimo Nel cassa Ragazzi Preparatevi Perché Veramente Le due gemelle Sono qualcosa Di incredibile Già vedete Margherita E scusatemi Ma effettivamente Gli occhi sono Spiacicati Uguali Identici A quelli del padre Guardate Ha un po' La palpebra Bella Grande E Lei è Margherita Ragazzi Quindi Ve la vado a presentare Ufficialmente Guardate Che principessina Adorabile Entrambe Hanno i capelli Lunghi Vi faccio vedere I suoi look Principali Guardate Qui Che donnina A modo Oh Sei stupenda Ragazzi E qui Ha i capelli Legati Mentre Invece Sua sorella Ricordiamoci Che Margherita Ha una testa Un po' Calda Infatti Si vede Anche Dal Sopracciglio E Questa Sibilla Che Invece Ragazzi Mi sembra Molto Più Docile Se vogliamo Entrambe Hanno Una tuta Pantalone Diciamo Per L'abito Sportivo Perché Ce le Vedo Lei ha i capelli Leggermente Più corti Della Sorella Sorella Ma guardate Che Belli E Quest'altro Ah ecco Ecco qua Questo Ve lo Volevo Far Vedere E Anche Un pochettino Più Aggraziata E Femminile Di Sua Sorella Margherita E Ha scelto Quindi Un tessuto Un po' Così Colorato E Quindi Diomira L'ha Accontentata Ragazzi Io ancora Non ci credo Ve lo Giuro Che sono Le figlie Di Diomira Ma ci Stiamo Rendendo Conto Sono Le figlie Di Diomira Comunque Forse Lei Assomiglia Più a Diomira Quando Era Piccola Mentre Invece Margherita Assomiglia Molto Di Più Al Padre Anche Se In realtà Effettivamente Sono Uguali Nell'essere Diverse Quindi Ragazzi Detto Ciò Alla Fine Siamo Arrivati Con Questo Compleanno Anche All'ultimo Giorno Del 1328 Con il Loro Compleanno Io Sono Veramente Felice Di Come Stia Andando Il Tutto Veramente Mi Fa Molto Piacere Che La Famiglia Stia Crescendo Nel Migliore Dei Modi Lunga Vita Comunque A Tutte Le Buone Azioni Che Il Tristomi Tutore Ha Fatto Nei Nostri Confronti Adesso Lascio Però La Parola A Voi Fatemi Sapere Che cosa Ne Pensate Consigli Commenti Opinioni Tutto Quello Che Volete Soprattutto Datevi Un vostro Parere Sulle Due Gemelle Del Destino Margherita E Sibilla E Ovviamente Cosa Ne Pensate Anche Del Tristo Meditore Come Si Sta Ponendo Nei Nostri Confronti E Se Magari Dobbiamo Questa Vicinanza Appunto Della Morte In Positivo Al Fatto Che Filippo E Andato Comunque Più Di Qua E Al Fatto Che Matilde Si Adesso Nel Regno Dei Morti Quindi Magari Ci Sta Veramente Proteggendo Dall'alto Quindi Aspetto I Vostri Commenti Noi Ci Vediamo Nel Prossimo Episodio Come Al Solito Lasciatemi Un Pollice In Su E Ci Vediamo Prestissimo Ciao